Mentre si ragiona sulla possibilità di far slittare la riapertura delle scuole superiori o comunali, continuano le verifiche dei tecnici della protezione civile della DICOMAC sugli istituti scolastici cittadini. La decisione di trasferire la scuola media Savini, la scuola elementare San Giuseppe alla Molinari di piazza Aldomoro, scaturisce infatti dalla dichiarazione di inagibilità delle due strutture scolastiche di via Pascoli e di via dei Funari. Savini e San Giuseppe sono state infatti definite di classe C, ovvero parzialmente inagibili, dove parti limitate dell'edificio possono comportare elevato rischio per i loro occupanti, secondo la classificazione prevista dalle schede AIDES di rilevamento dei danni. Ma qual è la situazione delle altre scuole comunali, almeno quelle finora valutate dai tecnici della protezione civile? Finora ci sono cinque edifici scolastici di classe A, ovvero pienamente agibili. Sono la scuola media ad Alessandro L'Acqua Viva, che per questo ospiterà gli 87 piccoli della scuola dell'infanzia della San Giuseppe, la scuola media Zippilli in via De Vincentis, la scuola elementare Michelessi in via Dati e la scuola materna Miss Gioia alla Gammarana. C'è poi una parte della scuola Molinari, quella non interessata dalle infiltrazioni e non interessata dai lavori di ristrutturazione. Secondo la definizione della protezione civile, gli edifici in classe A sono agibili, ovvero l'edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti. Gli istituti scolastici cittadini di classe B, cioè temporaneamente inagibili in tutto o in parte, ma dove è sufficiente eseguire lavori di rapida esecuzione per poterlo utilizzare in tutte le sue parti senza pericolo per i residenti, sono quattro. La scuola Noe Lucidi alla Madonna delle Grazie, l'asilo di Piano Solare, la scuola media San Giorgio, la materna di Colle Atterrato. In questi edifici il comune ha già avviato i lavori di ristrutturazione. Si considera di classe B anche quella parte della scuola Molinari dove ci sono infiltrazioni di acqua ma non danni strutturali su cui si sta procedendo con i lavori.